Buongiorno a tutti, porto i saluti da parte di tutti i colleghi del settore patrimonio culturale e saluto e ringrazio i relatori e chi è con noi qui a dare un significato profondo a questo convegno. Come diceva Carlo, la rassegna Vivi il Verde è una rassegna ormai matura, adulta, che ha fatto molte esperienze e che ha questa straordinaria capacità di adattarsi alle esigenze e alle necessità che la nostra contemporaneità ci pone. Come potete immaginare abbiamo vissuto degli anni, quelli appena trascorsi, intensi e anche critici e che dalla rassegna ha accompagnato e ha dato la possibilità di tornare a un rapporto diretto con la natura quando c'è stato possibile, con delle riflessioni molto particolari. Quest'anno, come diceva Carlo, il nostro focus è, e non potrebbe essere diversamente, sui parchi e i giardini storici perché siamo negli anni fondamentali per il nostro paese che ci vedono tutti impegnati sostanzialmente e concretamente nell'attuazione di un piano di rinascita del nostro paese e così lo vogliamo pensare e vivere da soggetti che a vario titolo dal privato cittadino all'istituzione, agli enti del terzo settore, agli enti di ricerca sono chiamati appunto a dare un contributo e i parchi e i giardini storici nel nostro piano nazionale di ripresa e residenza hanno un posto importante all'interno della misura che viene governata e presidiata dal Ministero della Cultura. E quindi oggi quello che noi intendiamo offrire a noi qui presenti e a chi ci segue in remoto è una riflessione work in progress di quello che stiamo sviluppando a tutti i livelli, a livello nazionale, a livello regionale, all'interno degli enti locali, su questa sfida che è stata lanciata nel PNRR per riconoscere l'elevato e composito valore culturale dei parchi e giardini storici all'interno del nostro patrimonio culturale, l'impegno concreto a progettare, rendere sostenibile un presente e un futuro per queste realtà così fondamentali per la vita delle comunità e anche un approccio alla conoscenza e all'attuazione di metodi e di procedure che impareremo tutti strada facendo. Per questo il programma di oggi vuole dare spazio e contenuti a quelli che sono i soggetti che sono intensamente impegnati in queste attività a partire appunto dal Ministero della Cultura e per questo ringrazio il dottor Lamastra che è già qui al tavolo perché partiremo proprio da quello che è l'impianto dei progetti importanti sui giardini e i parchi storici per il nostro paese a livello nazionale, cercheremo appunto di cogliere qualche riflessione, qualche suggerimento rispetto all'avviso che ha dato degli esiti importanti in tutta la regione per gli interventi di restauro, di riqualificazione e di rigenerazione degli giardini e parti storici anche nella nostra regione come sappiamo abbiamo quasi una decina di giardini non solo pubblici, nove mi pare che siano, che sono stati appunto finanziati e che adesso si avviano a una fase di attuazione impegnativa ma molto significativa a cui tutti noi guardiamo con molto interesse perché devono rappresentare dei modelli, dei casi scuola su cui poi dovremo impiantare un approccio e una competenza nuova anche negli altri parchi e giardini storici che sappiamo hanno partecipato numerosi a questo bando e che devono comunque anche con l'aiuto della regione trovare modo di poter arrivare a un miglioramento delle loro caratteristiche. Quindi innanzitutto parleremo di questa situazione che appunto è in divenire ma a livello regionale vogliamo anche condividere quella che è un'attività che è partita all'interno del settore e che è un'attività assolutamente innovativa e che viene comunque anche monitorata a livello centrale sul censimento dei parchi, dei giardini storici presenti nella nostra regione e quindi se ne occupano i colleghi che poi parleranno quindi Fabio Falleni, Giovanna Daniele e poi nella collaborazione c'è anche Rossella Ghedini che riguarda un'attività conoscitiva che ha preso spunto dall'attività prevista nel PNRR e che ci deve portare come regione Emilia-Romagna ad avere un polso più efficace sulla realtà di questi giardini, sulle potenzialità di queste realtà che sono un patrimonio culturale variegato, articolato con degli aspetti naturalistici ma anche storici di impianto molto importante che hanno bisogno di essere ulteriormente scoperti, riscoperti, compresi, studiati per essere conservati e restituiti alle comunità con una maturità di approccio maggiore. Quindi avremo anche questo aspetto ma poi avremo anche la possibilità di entrare sui temi più tecnici e più scientifici con gli apporti appunto dei relatori del mondo accademico che ringrazio per essere presenti perché è proprio in questa fase per la nostra regione ma per tutto il nostro paese che tutti questi aspetti, queste competenze, questi approcci diversi devono convergere verso l'obiettivo comune, lo sentiamo fortemente necessario, lo vogliamo vivere così e per questo questi nostri convegni hanno questa impronta, sono stati appunto pensati da noi con un'attenzione ad accogliere voci e esperienze e anche appunto saperi diversi che però per noi sono molto importanti da mettere appunto a frutto in questo momento. E poi abbiamo invitato a parlare qui anche dei referenti di giardini e parchi storici che sono oggetto di importanti progetti in corso o che si avvieranno, indipendentemente dal fatto di essere stati finanziati dal PNRR e questo a riprova del fatto che l'attenzione sui giardini e i parchi storici in questa regione preesiste e fa parte del DNA di questa regione inteso appunto come comunità civile, sociale, politica e tecnica che grazie anche appunto alla tradizione che dobbiamo all'Istituto dei beni culturali si è innervata nelle attività presenti nei nostri comuni. E quindi è con molto piacere che abbiamo visto, raccolto l'invito ad essere qui in realtà appunto Villa Sorra di Castelfranco Emilia, la Regia di Rivalta di Reggio Emilia e Colorno. E questo appunto evitando interventi del PNRR non perché non volevamo, anche perché hanno già avuto modo di essere comunicati, perché devono partire, sappiamo che qui abbiamo la presenza anche di referenti di progetti che sono stati finanziati dall'università come gli orti botanici ma questo perché vogliamo davvero che questa occasione, quello che è il nostro convegno di oggi, sia appunto l'occasione come dicevo di unire queste forze e dare la possibilità di riconoscere questo luogo simbolicamente ma anche fisicamente come eventuale punto di raccordo, come appuntamento periodico per capire come stanno andando avanti questi progetti, quali saranno le criticità da affrontare, criticità fisiche, tecniche, di coinvolgimento, procedurali, sappiamo tutti che appunto anche questo aspetto lo stiamo vivendo strada facendo perché è tutto nuovo per noi, però credo che l'approccio migliore sia proprio quello di accompagnare questi percorsi e riconoscere il valore intrinseco già nel percorso stesso che si fa, nel processo che è iniziato e che coinvolge come dicevo competenze di vario tipo per arrivare ovviamente all'obiettivo, obiettivo che non può spuntare come una cosa inattesa ma deve essere sì atteso ma anche compreso fino in fondo perché è stato condiviso anche negli step intermedi. Quindi continuando nella nostra, come è lo stile che ci caratterizza, io do il benvenuto a tutti e sono sicuro che gli interventi daranno spunti, opportunità di riflessioni e di confronti e quindi credo che sia il caso di avviarci alla nostra maratona di interventi. Grazie.